A un certo punto ho preso il volo, a un certo punto ho capito cosa significava viaggiare, volare verso confini pazzeschi. Ladies and gentlemen, signori e signore, comando io e vi racconterò una fottuta notte per tutti voi con stile, passione ed orgoglio. Ho deciso di presentare una situazione speciale. Vola, vola, vola. Senti, senti, senti cosa va e come va. Gen, leg, ho deciso di presentare per tutti voi, direttamente da un fottuto mondo di differenza e produzione. Signore, signori e signore, io e io! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.